cari telespettatori debuttiamo nel 2024 e non poteva essere altrimenti col professor Marcello Signorelli perché credo che avessimo già debuttato col professor Marcello Signorelli lo scorso anno è un po' insomma la prima puntata che ci introduce e ci aiuta a capire anche quello che da un punto di vista economico ma non solo economico si prospetta per l'anno in corso però prima di entrare nel dettaglio di questo argomento c'è anche un altro elemento su cui mi piacerebbe parlare con il professor Signorelli che è appunto io non l'ho presentato il professor Signorelli dando tutto per scontato ma meglio di non dare niente per scontato magari c'è qualche raro telespettatore che non lo conosce e il professor Signorelli è direttore del dipartimento di economia dell'università di Perugia oltre che ovviamente docente anzi ordinario di politica economica vorrei ricordare che il suo manuale di politica economica scritto insieme redatto insieme al professor Enrico Marelli è quello più utilizzato nelle università italiane finiamola qui perché sennò dovremmo andare molto in là ecco dicevo l'altro aspetto su cui mi piacerebbe parlare e iniziare con questo è proprio un anno da direttore di dipartimento ma proviamo a fare un bilancio insomma perché lo vedo provato il professor Signorelli dopo un anno da direttore di dipartimento. Allora sono provato ma contento poi le autovalutazioni come noto sono sempre benevole per cui anch'io darò un giudizio benevole su me stesso però adesso a parte gli scherzi che però sono anche in parte realtà. No sono molto contento per il coinvolgimento di tanti colleghi alcuni che prima erano defilati magari invece molti si sono voluti impegnare sulle tante commissioni di dipartimento che ho voluto creare su base di adesione spontanea e quindi assecondando le preferenze dei singoli e quindi si va da quelle tradizionali di orientamento su cui peraltro abbiamo vinto anche un progetto di finanziamento nazionale insieme a altri atenei per l'orientamento sia exante quindi alle scuole ma anche in itinere perché noi molti studenti li perdiamo poi abbandonano per varie ragioni anche non positive di tipo occupazionale. Quelle tradizionali connesse alla ricerca scientifica abbiamo fatto il primo workshop di dipartimento estremamente partecipato praticamente tutti i docenti e ricercatori hanno partecipato. Ci sono altre commissioni a cui tengo molto, quella sulla disabilità che sta funzionando molto bene perché lì c'è dei passi avanti enormi che dobbiamo fare sulle strutture, sull'abbattimento delle barriere ma ci sono tante tipologie di disabilità che dobbiamo cercare di affrontare meglio. Insomma le commissioni sono tantissime e devo dire alcune, non tutte, ma lavorano veramente oltre le aspettative. Quindi da questo lato sono molto contento del coinvolgimento perché come ben noto da soli non si fa nulla e quindi ecco questo io sono molto soddisfatto personalmente però ecco questi giudizi andrebbero chiesti ai colleghi oppure ad altri e in ultima istanza in realtà gli studenti perché i destinatari del nostro lavoro di una parte del nostro lavoro sono gli studenti. Una parte perché naturalmente l'università è ricerca scientifica che è vero ha ricadute anche sulla qualità della didattica che facciamo ma però la ricaduta della ricerca scientifica è anche ovviamente sul progresso di quello che sono le conoscenze soprattutto in ambiti di scienze sociali quindi non da laboratorio come l'economia dove noi abbiamo provato anche a aprire il dipartimento ulteriormente al mondo esterno quindi al mondo delle imprese ci sono collaborazioni con cna con l'agenzia delle dogane abbiamo creato un corso di formazione i cui riscontri sono molti positivi di chi lo ha frequentato quindi ecco tante cose ho provato a fare abbiamo 10 ricordo perché tra l'altro facciamo anche una puntata una parte anzi di una puntata quando fu presentato questo con l'accordo con monopoli e dogane. Cioè dicevo ci sono al dipartimento di economia 10 progetti di interesse nazionale di ricerca con coordinatori nazionali o di unità locale del dipartimento di economia quindi ci sono due progetti e altri sono in realizzazione finanziati nell'ambito dei progetti europei insomma le iniziative sono tante anche i successi interni è chiaro che i marci di miglioramento sono ancora enormi qualche progresso è stato fatto ad esempio anche grazie all'intervento dell'ateneo perché poi tutte le iniziative avvengono in massima sinergia con i delegati del rettore di ateneo quindi ovviamente spesso partecipano ad esempio il professor Elio Svocca è venuto a presentare il workshop di dipartimento sulla ricerca scientifica ora adesso il 16 febbraio avremo un open day di dipartimento in cui interverrà il delegato del rettore competente che è il professor Roberto Rettori insomma noi ci muoviamo sempre in coordinamento con l'ateneo però vogliamo aumentare diciamo le possibilità per i nostri studenti di avere dei servizi aggiuntivi ma anche per il resto della società di conoscere meglio le competenze variegate che abbiamo no ci sono economisti aziendali delle varie tipologie economisti macroeconomisti microeconomisti economisti della sostenibilità ci sono giuristi c'è l'area matematico statistica insomma c'è una varietà di competenze che ha bisogno ulteriormente di essere conosciuta all'esterno semplicemente per dare un contributo a chi ce lo chiede perché appunto noi io ho sempre detto questo noi siamo pronti a ascoltare chiunque però non anche per ragioni di tempo talvolta non ci muoviamo noi a cercare diciamo collaborazioni no rimaniamo a disposizione come un livello che può interessare o meno ad esempio con con cna c'è un progetto molto interessante che già operativo per creare una guida alla sostenibilità per le piccole e medie imprese insomma ci sono tanti progetti e tanti altri ne vogliamo realizzare poi naturalmente rimane l'attività standard che è quella di fare lezioni di elevata qualità di riformare i corsi di laurea ricordo che una commissione che devo dire ha funzionato benissimo la commissione mission e riforme che ha una caratteristica assembleare quindi tutti i docenti tutto il personale tecnico amministrativo tutti i rappresentanti degli studenti dei vari corsi di laurea ne fanno parte in questo anno abbondante con molte riunioni siamo riusciti ad arrivare a una sintesi di riforme possibili sia dei trienni quindi dei corsi laurea trinale sia delle magistrali arricchendo andando ad arricchire a regime ovviamente dal prossimo anno accademico i percorsi di laurea ad esempio faccio solo un esempio sulle magistrali avremo sulle magistrali sulle tre lauree magistrali di perugia avremo su tutte e tre un intero percorso interamente in inglese che questo ci aprirà ci sta aprendo ulteriormente spazi per creare doppi titoli quindi accordi con università europee soprattutto per consentire ai nostri studenti dei corsi magistrali di avere queste esperienze su università estere che è la vera possibilità principale per poter essere attrattivi anche rispetto a laureati triennali di altri atenei non voglio diloggarmi oltre vorrei solo citare una cosa che so che sta funzionando molto bene è quasi risorta diciamo che è proprio nell'ambito sotto legida hanno sotto legge nell'ambito proprio del dipartimento di economia c'è il corso di adesso non ricordo di economia management del turismo di assisi che di cui abbiamo peraltro presentato hanno parlato con il responsabile hanno fatto una bella intervista nel momento in cui si aprivano ancora non erano aperte ma insomma si stavano per aprire le iscrizioni e sembra che le iscrizioni si è andate molto bene ma anche il corso si è andato molto bene assolutamente lì veramente ho trovato un corso spiace dirlo ma morente per certi versi perché si trascinava con 14 15 15 circitti al primo anno che non è e quest'anno siamo riusciti a balzare verso i 40 che è un successo enorme ovviamente non è che me lo prendo solo io io mi prendo solo il merito di aver voluto peraltro nelle prime tre settimane di direzione quindi nel mese di novembre di oltre un anno fa imprimere una svolta anche perché era evidente che non potevamo rimanere fermi ma come si sa talvolta nel mondo accademico ci sono resistenze ingiustificate di difesa di ambiti angusti di tipo non solo diciamo del proprio settore scientifico disciplinare ma magari di prospettive di presunte prospettive sia di carriere che di reclutamento insomma a volte ci sono delle rigidità che non hanno senso di essere e bisogna ragionare di più sui destinatari che sono gli studenti su un corso come quello di Assisi c'è bisogno di per certi versi una presenza autorevole importante di didattica accademica ma e qui ci siamo andati a potenziare molti più laboratori professionalizzanti coinvolgendo quindi personalità importanti del settore del turismo l'aspetto dei tirocini quindi delle esperienze insomma dobbiamo andare di più in quella direzione professionalizzante lì lo abbiamo fatto su altri corsi di laurea servono percorsi più differenziati lasciando delle opzioni maggiori agli studenti cioè ai giovani che più di più di noi sono in grado poi di disegnare quello che è per loro il loro percorso o triennale o magistrale che sia insomma dobbiamo aumentare la varietà delle opzioni di scelta è chiaro compatibilmente con quello che siamo non riusciamo a proporre diciamo competenze che non abbiamo ma quelle che abbiamo le dobbiamo utilizzare al massimo del possibile e nell'utilità in questo caso della didattica e quindi degli studenti bene professore complimenti ovviamente prossimo anno rifaremo ancora il punto quindi peraltro se posso in chiusura in chiusura citare solo due piccoli ma non piccolissimi convegni che coorganizzo perché anche se l'idea parte diciamo da me sostanzialmente però in realtà insieme altri colleghi uno è il rai il 20 il 21 22 marzo dedicato a federico caffè sarà un convegno molto interessante anche stamattina abbiamo fatto una riunione con il gruppo caffè che sei un gruppo di economisti allievi di federico caffè invece un secondo convegne che si preannuncia diciamo più di livello internazionale per certi versi ancora di più e che sarà il 20 21 giugno che è diciamo prende spunto da un anche un'autocritica del modo di fare ricerca scientifica degli economisti che tra le tante cose debbano coinvolgere competenze anche diverse per cercare di capire meglio una complessità di realtà che evolve ci sorprende continuamente e quindi se rimaniamo non solo con i nostri inevitabilmente deboli strumenti sia pur sempre più sofisticati riusciamo a capire sempre meno perché le competenze necessarie per comprendere la realtà dinamica e complessa sono tante e vanno fatte collaborare dal punto di vista della carriera accademica questo aspetto diciamo inter multidisciplinare è molto poco incentivato normalmente non conviene detto in sintesi però è qualcosa di estremamente necessario e non deve rimanere solo un livello accademico serve anche un coinvolgimento della società civile e quindi ci saranno ad esempio tavole rotondi con imprenditori che hanno sensibilità particolari nel modo anche di fare impresa insomma questo si vedrà bene dicevo allora di nuovo complimenti e adesso passiamo all'altra parte che aveva annunciato all'inizio una valutazione di quello che si prospetta nel 2024 a livello economico ma che mi sembra sempre più stretto soprattutto in questo momento che un livello geopolitico poi quindi partirei dalle difficoltà e dalle potenzialità dell'italia maurizio costanza avrebbe detto professore cosa c'è dietro l'angolo hai detto bene purtroppo il grado di incertezza già elevatissimo ormai da tanti anni non solo non accenna a diminuire ma ci sorprende ogni giorno e le instabilità e le crisi geopolitiche si susseguono e questi contesti globali condizionano ormai non da oggi da decenni l'economia italiana che bene o male non benissimo è inserita in un contesto globale di produzione di catene globale del valore con tutte le dipendenze che conosciamo sul fronte delle importazioni energetiche della specializzazione produttiva debole molto esposta alla competizione dei paesi emergenti insomma le debolezze italiane le conosciamo abbastanza bene diciamo così dove diciamo è più faticoso diciamo non è tanto anche suggerire cosa fare ma poi portare a realizzazione questi interventi che ripeto richiedono risorse ora noi veniamo sostanzialmente da almeno due grosse crisi no anche tre nell'eurozona però diciamo che la seconda era connessa alla prima quindi la grande recessione poi la crisi dei debiti sovrani nell'eurozona che dipesa dalla grande recessione ma anche dai ritardi e dalle errate politiche monetarie sul momento le regole europee che ne sono seguite peraltro con anche impatto sull'opinione pubblica di tanti paesi in termini critici e anche in parte giustamente critici verso le istituzioni europee va detto che con la pandemia con lo shock pandemico le istituzioni europee hanno risposto meglio sia la banca città europea a parte che i fatidici sei giorni dal 12 marzo 2020 al 18 in cui c'è stata un po' di incertezza della lagarde anche nelle sue presunte intenzioni di non ridurre l'ampiezza degli spread salvo poi farsi piegare dalla realtà e quindi la necessità di intervenire e addirittura andare ad acquistare tra marzo 2020 e giugno 2022 l'intero incremento dei debiti pubblici nazionali nell'eurozona quindi un intervento enorme necessario che ha evitato crisi sul debito pubblico e anche l'ampiarsi degli spread sul fronte delle regole sappiamo benissimo che queste sono state subito sospese a marzo 2020 come segnale sia di realismo rispetto allo shock pandemico dal lato macroeconomico ma anche per dire agli stati guardate avete spazi ulteriori per intervenire con aumenti di spese e riduzioni di entrate questo oramai questa fase è in uscita tant'è che si è arrivati a una sorta di preaccordo ad esempio sulle regole del patto di stabilità crescita a dicembre scorso quindi meno di un mese fa e che dovrà ancora avere affinamento su qualche dettaglio e che però riporterà in qualche modo in funzione diciamo dei vincoli che a livello europeo fino al 2027 saranno un po meno stringenti ma dopo ritorneranno ad esserlo in parte chiaramente non tutto si gioca su questi limiti deficit debito contano poi anche le composizioni delle voci di spesa pubbliche le voci di entrata e li entrano in gioco tanti aspetti di valutazione anche dell'impatto sia sulla crescita che sugli aspetti distributivi delle varie voci che andrebbero ulteriormente potenziati anche come supporto tecnico diciamo così c'è anche l'aspetto delle politiche industriali che i tanti paesi emergenti la cina in primis che senza dirlo fa politiche industriali ormai da decenni e trascina attraverso un intervento pubblico enorme ma anche fatto complessivamente molto bene a sviluppi economici settoriali su appunto comparti strategici abbiamo visto anche in giorni scorsi i dati sull'automotive certo di elevato valore aggiunto con innovazione investimenti capitale umano ricerche sviluppo sono tutte dinamiche di spesa privata che però vengono trainate da un ruolo importante del settore pubblico peraltro queste dinamiche di sviluppo globale ci mettono diciamo a riflettere su tanti aspetti che fino a qualche pochi decenni fa non immaginavamo perché eravamo abituati fino a pochi decenni fa a un declino secolare da oltre un secolo e più delle diciamo del peso economico dei paesi autocratici li chiameremmo noi cioè non democratici invece oramai da da qualche decennio e la la dinamica si è invertita i paesi emergenti che in prevalenza la cina e altri paesi certo non hanno caratteristiche democratiche di rispetto delle libertà individuali eccetera eccetera però stanno guadagnando e continuano a guadagnare peso economico nel contesto globale questo ovviamente si trascina assieme anche a un maggior peso politico e su tutto questo la nostra italia nel contesto europeo continua ad arrancare in parte perché anche il livello europeo dell'unione europea al di là delle indubbi innovazioni del next generation you la storica missione di debito comune europeo e le politiche monetarie e comunque sulle regole complessivamente adeguate in risposta alla pandemia però non riesce di fatto a fare quel salto ulteriore che i padri fondatori immaginavano come appunto una istituzione di tipo federale in qualche in qualche modo che consentirebbe di avere un peso politico maggiore invece singoli stati li vediamo nella loro irrilevanza non è solo un problema dell'italia no no magari fosse solo dell'italia in un certo senso è un problema continentale anche draghi mi sembra che la sua qualità di di delegato del presidente della commissione europea forse la van der leyen e abbia fatto un quadro dell'economia europea abbastanza allarmante insomma ha perso una spinta e va ritrovata ecco quindi non è uno dei momenti migliori diciamo per l'unione ma non da adesso perché poi questa questo scivolamento c'è stato negli anni no ecco io professore mi viene in mente una cosa allora la bce aumentando i tassi di interesse con molta rapidità cosa che ha fatto anzi la fed è partita anche un po prima per in funzione anti inflazione ma accanto a questo che dovrebbe andare piano piano nell'arco del 2024 a profilarsi insomma realizzarsi qualche riduzione no perché avremmo toccato il tetto però c'è un una ormai una tendenza è un'affermazione delle dichiarazioni molto chiare che si va prima si diceva la bce non aumenta più l'acquisto di titoli sul mercato ma reinveste quello che scade adesso c'è un'accelerazione invece proprio a ridurre l'esposizione del bilancio fondamentalmente a bce questo e quindi significa che le obbligazioni che le imprese davano la bce tutto tutto parte lo scaldabagno veniva dato veniva dato tutto ormai la bce dovrà essere piazzato sul mercato questo non può non può portare un aumento dei tassi di interesse o a delle crisi di liquidità in qualche maniera allora la decisione del 14 dicembre scorso e in parte ha sorpreso perché intanto la gran parte degli acquisti che fanno le banche centrali sono relative ai titoli di stato una parte sì però ci sono anche certo sì ci sono anche obbligazioni del settore privato però sono una quota minore molto minore e dicevo nel 14 dicembre è stato deciso di anticipare perché allora il reinvestimento lo diciamo magari velocemente in che consiste nell'ambito del piano di acquisti per l'emergenza pandemica ma anche in precedenza del quantitative easing 2 o detto asset purchase program insomma a un certo punto si è deciso non solo di fare acquisti sistematici ma alla scadenza di questi titoli di stato prevalentemente acquistati dai vari paesi dell'eurozona nel momento in cui arrivano le risorse di rimborso da parte degli stati a scadenza di riutilizzarle da parte della banca centrale europea immediatamente per fare nuovi acquisti per altre anche essi in forma flessibile quindi modificando le composizioni questo per stabilizzare i mercati dei titoli di stato fondamentalmente contenere l'ampiezza dei spread e mantenere sostenibili i debiti pubblici dei vari paesi soprattutto dei paesi più fragili a più elevato indebitamento eccetera e fino a prima del 14 dicembre scorso questo reinvestimento sarebbe dovuto andare avanti fino ad almeno la fine del 2024 invece il 14 dicembre è stato deciso di fare un reinvestimento pieno sul piano relativamente agli acquisti del pep fino a giugno quindi metà anno 2024 poi dimezzare questo reinvestimento nella seconda metà dell'anno e azzerarlo a fine 2024 quindi anticipando questa dinamica e diciamo in teoria ma non avevo in realtà aspettative in quella direzione ci poteva attendere una risalita dei tassi perché indubbiamo almeno di quelli italiani prima ne prendeva la bc adesso devi mettere sul mercato quindi è chiaro che certo però questo non è avvenuto a mio avviso perché opportunamente a luglio 2022 la banca centrale europea cioè luglio 2022 è il mese in cui c'è stato il primo aumento dei tassi di interesse ufficiali da parte la bce che ricordo all'epoca erano a zero quello principale era zero addirittura un era negativo insomma in quel mese è stato deciso il transmission protection instrument detto anche scudo antispread che sostanzialmente pur prevedendo delle condizioni quindi ci sono una serie di condizioni che un paese deve avere per poter essere diciamo destinatario di questo intervento di acquisto no però c'è una frasetta sostanzialmente all'interno di questo strumento che dice anche in assenza nella sostanza anche in assenza di questi requisiti da parte dello stato la banca centrale europea può comunque decidere di intervenire in caso di attacco speculativo sui titoli di stato di un paese questo che vuol dire vuol dire che la bce finalmente meglio tardi che mai si è riappropriata sostanzialmente di tutti gli strumenti di qualsiasi banca centrale in giro per il mondo e quindi compreso la possibilità senza limiti ricordo le banche centrali potendo stampare moneta senza limiti significativi hanno una capacità di impatto enorme sui mercati tant'è che c'è il detto contro le banche centrali non si scommette perché possono mettere sempre un euro in più o un dollaro in più a rischio di subire forti perdite in grado di far cambiare le tendenze al ribasso al rialzo dei prezzi delle attività finanziarie insomma l'introduzione di questo strumento ha indubbiamente ulteriormente stabilizzato perché i mercati dei titoli di stato perché anche se si va verso un disimpegno più accelerato del previsto peraltro una dinamica che personalmente non valuto molto positivamente ma che fa parte della visione interna alla banca centrale europea e tuttavia questo scudo antispread almeno per ora e penso che ancora procederà per un po di tempo è tale da garantire rassicurare i mercati e quindi peraltro sullo spread bisogna stare anche attenti perché l'economia tedesca non sta andando molto bene come sappiamo quindi sempre un divario tra tassi di interesse di due paesi di cui il secondo in genere è la germania quindi bisogna leggere anche questi questi divari nell'ottica dell'andamento congiunto dei due tassi di interesse quessore una ci mancano cinque minuti una curiosità ma lei si augurava che il mess possa approvato o no la non approvazione ci danneggia va in pareggio cioè non incide oppure oppure è stato un errore di cui magari potremmo pentirci allora questo è un discorso lungo scivoloso non lo voglio eludere intanto ricordiamoci quando è nato il cosiddetto fondo salva stati permanente che segue a quello temporaneo ma la logica è la stessa è nato quando la banca centrale europea ancora prima contrissima dopo anche nei primissimi anni di draghi della presidenza draghi ancora non solo non voleva ma non riusciva a decidere acquisti sistematici di titoli di stato tant'è che la bcec è arrivata marzo 2015 quindi sei anni dopo della federal reserve usendo danni enormi in quella fase per la grecia irlanda portogallo cifro ma anche la spagna ne ha utilizzato servivano degli strumenti per concedere prestiti a paesi in pesante difficoltà che non trovavano più acquirente i propri titoli di stato o comunque nel caso spagnolo che aveva un settore bancario su cui andare a intervenire ora quella fase con la pandemia e con gli interventi che abbiamo visto da parte della bce e con lo scudo anti spread che dicevamo prima è stata superata oramai questi cassetti questi attrezzi sono stati della bce sono stati messi nel cassetto e quindi diciamo che l'utilità la necessità vera del fondo salva stati meccanismo europeo di stabilità è venuta in parte meno è vero che nella riforma si prevede di estenderlo a delle difficoltà del settore bancario quindi però a livello politico mettiamola così è rimasta ancora in memoria l'utilizzo che ne è stato fatto spesso con condizionalità controproducenti pensiamo al caso della grecia tanti anni fa e quindi il livello ideologico politico è rimasto fermo a quella situazione la situazione nel frattempo è molto cambiata quindi il fatto che non si sia voluta per ora approvare quella riforma non è che diciamo così grave come poteva esserla in un contesto diverso in cui la banca centrale europea non era così avanti nel tornare alla normalità e attenzione nel tornare a fare una banca centrale centrale normale perché ricordo che nella logica della bce questi freni questi vincoli agli interventi erano motivati dal non creare troppi spazi agli stati ai governi degli stati dell'eurozona perché questi poi li avrebbero utilizzati in maniera opportunistica per fare più spese meno tassazione in chiave di gestione del consenso e anche dei risultati elettorali chiaramente questi aspetti esistono nella realtà però quando ci sono shock molto forti crisi finanziarie oppure pandemia è chiaro che la banca centrale si deve muovere quindi rispondendo alla sua domanda non è così grave non era neanche grave se ci fosse stata un'approvazione lo dico francamente perché comunque con le istituzioni europee occorre come si è visto benissimo anche con l'attuale governo e devo dire lo sta facendo comunque il ministro giorgietti e continuare a interloquire non c'è alternativa cioè c'è stata la fase giuseppe ti ricorderai il libro divulgativo su e se l'italia tornasse nel libro ricordo professore signorelli 5-6 anni fa parlavamo in chiave e anche io molto critica dell'istituzione europea e come erano state adottate quelle politiche però arrivavamo comunque a una conclusione in cui costi rischi e superavano i vantaggi figuriamoci alla luce dello shock pandemico quindi con le istituzioni europee ormai tutti i partiti i movimenti hanno capito che occorre interloquire al meglio del possibile chiaramente anche le stesse istituzioni europee l'abbiamo visto hanno avuto una loro evoluzione servirebbe un di più e per questo di più di evoluzione di tipo federale del rispetto sia pur delle autonomie dei vari stati servirebbero dei leader politici europei o nei singoli stati che abbiano una visione lunga e questi purtroppo non si vedono molto perlomeno io non li vedo e questo un po implicano che il vecchio continente sta diventando da tempo sempre più una propagine piccola se lo guardiamo nel planisfero dell'asia per cui si parla sempre più di continente più che euro asiatico diciamo asiatico e l'aspetto demografico delle dimensioni demografiche tende a ritornare dominante ecco da tonde come diceva jacques de l'orz che è scomparso recentemente che fu uno dei protagonisti una forte spia a un certo punto dopo la presidenza della commissione di gaston thorn molto grigia erano 75 70 anni anni molto grigi per tutti i paesi terrorismo ma anche per le istituzioni europee a un certo punto alla fine all'inizio degli anni ottanta ci fu e diceva l'unione europea e allora si ma comunità è come una bicicletta o va avanti o se si afferma cade per terra e va avanti per crisi purtroppo allora io ringrazio moltissimo il professor marcello signorelli ricordo direttore del dipartimento di economia dell'università di perugia sia per il quadro eh che ci ha fatto quel bilancio annuale del suo primo anno di direttorato eh del dipartimento di economia tante cose interessanti tante cose concrete sia per questo quadro eh che eh ci ha fatto e che ovviamente meriterebbe altro che una puntata eh del eh appunto del duemilaventiquattro ricordando che c'è poi una sfilsa di elezioni siamo legati a una serie politica importante che sono cominciate con Taiwan che ha votato e ma poi ci saranno le elezioni europee poi ci saranno fino ad arrivare a novembre alle elezioni quelle russe pavvelle dopo scontate quelle insomma lezioni eh così teatro ecco e fino ad arrivare a novembre all'elezione degli Stati Uniti d'America il presidente degli Stati Uniti d'America e di una parte del Senato e della Camera bene sarà un anno molto interessante sono eventi importantissimi che poi giustamente eh la politica è quella che è detta la linea e giustamente le scelte sono sempre complesse e speriamo che le stabilità geopolitiche che siano affrontate in modo migliore da questo punto di vista diciamo che è un anno importante sicuramente se non altro per tutta questa serie di scadenze tutta una serie di scelte speriamo lo seguiremo durante l'anno professor Signorelli già lo prenoto per altri interventi magari nei passaggi più cruciali e e di poter dire alla fine di questo 2024 che tutto sommato poteva andare peggio insomma bene professore ringrazio moltissimo e alla prossima grazie buona serata